Dalla nomina del CDA agli incarichi che sono stati dati appunto ultimamente nelle ultime settimane questa partenza di CSP non vi convince Grasso, perché? Ma soprattutto perché mi pare che sia in contraddizione con il leitmotiv della campagna elettorale con cui il sindaco e i suoi alleati del ballottaggio hanno vinto le elezioni avevano detto fuori la politica da CSP, ci pare che invece tutte le scelte che sono state fatte finora quelle più importanti siano proprio all'insegna della politica, tutto legittimo per carità noi infatti non vogliamo neanche personalizzare questo, però mi pare che sia evidente che sia la composizione del CDA soprattutto per quanto riguarda i componenti al di là della Presidente sia stata una scelta politica, in particolare sia stato sancito il campo largo qui a Civitavecchia proprio sul CDA di CSP con la scelta che è stata fatta e poi con le consulenze che sono arrivate mi pare che ci sia stato un ulteriore timbro su questo perché è una delle consulenze per gestire e studiare il fabbisogno di personale dell'azienda di CSP è stata assegnata, sarà un caso ma forse no, diceva Andreotti a pensare male si fa peccato ma spesso ci si azzecca, a un ex consigliere comunale e deputato autorevolissimo elemento del Partito Democratico che aveva partecipato alla selezione per il CDA, evidentemente non era stato ritenuto idoneo ma poi adesso il CDA stesso si rivolge a lui per dargli una consulenza su questo studio stessa storia per il social media manager che in realtà abbiamo visto finora occuparsi dell'ufficio stampa e della comunicazione del sindaco e della giunta adesso dovrà studiare e occuparsi invece delle pagine social di CSP per 50.000 euro finora gestite all'interno della società da personale competente e anche iscritto all'ordine dei giornalisti a costo zero per l'azienda, quindi da una parte si dice fuori la politica dall'altra invece mi pare che si stia caricando l'azienda di costi e questo sicuramente fa preoccupare per il futuro e per la tenuta dei conti di CSP stessa Oltre al tema delle consulenze, Gian Musso ha sottolineato un altro tema importante che arriverà peraltro in Consiglio Comunale, quello delle tariffe relative alla Ficoncella che cosa non vi convince? Non ci convince assolutamente perché ci aspettavamo come da programma elettorale un cambio passo questo cambio passo era migliorare la qualità dei servizi e abbassare le tasse ma se notiamo immediatamente il cambio passo è quello di aumentare la tariffa della Ficoncella perché oggi dal primo gennaio i nostri concittadini si troveranno a pagare un doppio ingresso quindi ci sarà la tariffa per entrare alla Ficoncella e la tariffa del parcheggio quindi se questo vuol dire per il Partito Democratico e per il Movimento 5 Stelle per questo famoso campo largo, il cambio passo, aumentare le tasse ai nostri cittadini chiesi allora vuol dire che non era il loro programma elettorale diciamo che poi dalla spartizione politica nostra di CSP è diventato un incarico fiduciario quindi hanno rinnegato quello che era il loro pedigree politico Per quanto riguarda la Ficoncella, l'altro tema, quello dei controlli relativi agli eventuali parcheggi blu che verranno installati, chi controllerà? Questo è il tema? Assolutamente, in Commissione era una delle domande che abbiamo posto all'amministrazione che non abbiamo avuto nessuna risposta, non c'è nessuna planimetria anche perché vorremmo sapere, questi parcheggi blu alla fine, chi farà effettivamente la multa? Ci sarà un ausiliare del traffico che partirà dal centro storico, arriverà alla Ficoncella oppure sarà un vigile urbano? Sappiamo benissimo che i vigili urbani sono talmente pochi impegneremo una risolta di un vigile per andare alla Ficoncella e controllare effettivamente se bisogna multare i civili da vecchiesi quindi veramente è una situazione che mi auguro che il sindaco possa intervenire per cercare di risolvere al più presto